quello che ci apprestiamo a vivere è un 25 aprile senza le piazze e senza i cortei siamo ancora in piena emergenza sanitaria vogliamo qui ricordare la liberazione di 75 anni fa dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista e lo facciamo con i social come questo in cui vi sto parlando riaffermare senza retorica quei valori che hanno caratterizzato la lotta partigiana grazie alla quale si sono create le condizioni per una società in cui vi è la piena libertà di espressione e di pensiero per tutti e la nascita della costituzione repubblicana valori che come ampi associazione nazionale dei partigiani d'italia li sentiamo ancora più necessari in questi tempi di sgomento e di paura in cui devono prevalere oggi più che mai l'unità di intenti la condivisione la lungimiranza da cui ci auguriamo emerga una società diversa che sappia tenere nella giusta e dovuta considerazione l'uomo e l'ambiente il ritorno alla normalità quella di prima non sarà più la stessa dovrà fare i conti oltre che con noi stessi anche con una gestione sociale economica e politica che dovrà necessariamente cambiare infatti quella che stiamo vivendo è un'emergenza collettiva mondiale un'emergenza che tocca non solo la salute ma anche tutto il resto per questa ricorrenza ci eravamo impegnati con un programma che prevedeva la presentazione di un nostro libro l'allestimento di una mostra sulla resistenza degli incontri con le scuole e con la cittadinanza avremmo ricordato le donne e gli uomini che riuscirono a sconfiggere il nazifascismo avremmo parlato della libertà conquistata che noi abbiamo il dovere di difendere purtroppo il coronavirus ha scombossolato i nostri piani ma non per questo rinunciamo a vivere questo 25 aprile rinviando a tempi migliori le iniziative che abbiamo lasciato in sospeso 75 anni fa ce la fecero i nostri genitori e i nostri nonni oggi ce la faremo noi e se può sembrare non adatto alla circostanza vedo una similitudine con la lotta che tutti noi stiamo compiendo oggi dovremmo avere ancora un po di pazienza a rispettare le regole e lo slogan io resto a casa va considerato non un isolamento dal mondo ma una sfida che sappia affrontare seriamente i problemi in una diversa e più alta socialità onorando in questo modo per i medici e infermieri che stanno davvero lottando per tutti noi e nel contempo ringraziare i sindaci le amministrazioni e gli apparati comunali per il lavoro che stanno svolgendo in questi giorni a sostegno dei propri concittadini e ringraziare pure tutte quelle persone meravigliose molte di queste invisibili ai nostri occhi che in questi momenti non si stanno risparmiando contro questa pandemia infine vorremmo porgere un caloroso saluto agli ammalati e a quanti soffrono unitamente ai loro familiari e porgere il nostro cordoglio ai parenti delle persone decedute senza il conforto di un funerale buon 25 aprile a tutti